per me è stato un processo lungo arrivare in contatto con la bte sono arrivato dopo 15 anni di ricerca personale crescita pulizia guarigione da una vita precedente dove non avevo proprio la visione a una seconda vita dove mi sono appassionato e quindi quando arriva la bte io ero un po perso tra seminari tra letture tra imparare e vabbè arriva per puro ovviamente caso perché prendo il libro il grande gesto cercando un altro libro e leggo è questa già la prima pagina avrò letto un po qualche anno quasi 200 libri non avevo mai letto un libro arriva questo libro ma mi aveva toccato poi ho assistito un paio di webinar suggeriti da facebook per caso ma ho pagato in contanti quindi mi chiedevo anche da qua arriva qualcos'altro in più era un momento in cui comunque ho bisogno di di capire se quello che stavo facendo era cioè sentivo di essere in viaggio verso la via o magari anche a tratti riuscire a esserci nella via ma veramente un po come un tappo di sughero in un mare in tempesta che cerchi di e quello che è successo con la bte nonostante io continui anche a praticare le stesse cose che facevo prima è come se fosse passato comunque un setaccio dove è rimasto tutto l'oro di quello che avevo appreso cercato di me stesso e ho scoperto una cosa meravigliosa quella bte che nonostante avessi girato in tanti posti aver conosciuto anche anime ma poi ognuno tornava a casa sua qua ho trovato un cerchio un gruppo dove non mi sono più sentito da solo dove nei processi del cerchio della classe si guarisce insieme e mi ha dato tutti gli strumenti per vedere come relazionarmi al meglio in ogni situazione ascoltando me cercando di ascoltare l'altro e cercando di richiamare le forze mi è servito tanto il contatto con gli orishat e con questo aspetto depurato da tante cose perché ho iniziato a dialogare anche con la natura grazie agli archetipi cosa che è uno strumento che abbiamo portato di mano tutti i giorni e quindi questo è quello che mi ha dato la bte pulizia mi ha dato una capacità sempre più di astringere i tempi da l'evento la reazione interiore la manifestazione essere sempre più facilmente in contatto non con l'osservazione del senno di poi e trasformare ma essere sempre più pronto nel fluire mi ha trasformato completamente la vita mi ha dato il coraggio di stravolgere completamente morire a me stesso veramente dal lavoro della famiglia dalla casa e iniziare alla cieca una nuova vita